Buonasera, nona puntata di cabina stampa sport con una serie di ospiti incredibili, a cominciare dalla mia sinistra con il centravanti Lorenzo Crocetti, poi abbiamo Jacopo Sciamanna che è un altro attaccante, Alex Marini difensore inossidabile e il commentatore, uno dei nostri opinionisti che è Emanuele Grilli, mi sono ricordato anche il tuo nome. Allora andiamo velocemente a darvi delle piccole notizie che riguardano il quindicinale che promuove e che produce questa trasmissione che è Cronaca e Gubina che nella prima pagina ha una veste grafica completamente diversa, rinnovata, a colori, il nostro direttore Francesco Caparrucci si è superato in questo, come vedete c'è un grande spazio dedicato alla Festa dei Cieli con i nuovi tre capodieci, ovviamente all'enorme successo che sta avendo cabina stampa sport che grazie al web tv consente a tanta, tantissima gente di seguirci da tutte le parti del mondo e ci sono stati contatti anche dall'altro emisfero. All'interno ci sono delle pagine che riguardano il gubbio calcio, l'argomento della nostra trasmissione dalla partita di Gavorrano dove abbiamo purtroppo subito una sconfitta immeritata secondo me e poi di qua nella pagina di rispetto, quella di sinistra, ovviamente c'è un bel servizio su cabina stampa sport. Ma io direi di soffermarci un secondo su una produzione che ci interessa in maniera particolare, che sto cercando all'interno di questo giornale che aumenta sempre di fogliazione, questo vuol dire che il giornale funziona, i giornali bisogna stare attenti, quando diminuiscono le pagine vuol dire che vanno male, quando aumentano va bene. E mi riferisco al film che produrremo come Cronaca eugubina, questa storia di questa bella ragazza eugubina che si innamora di un soldato nel 1943, quindi in pieno periodo bellico e nella pagina di destra vedete la locandina che è stata realizzata da Elia Grilli, volutamente fatta con stile anni 40-50 e nell'altra pagina invece la nostra protagonista che questa sera sarebbe dovuta essere qui con noi ma per impegni purtroppo ha dovuto dare forfè. Bene, detto tutto questo, facendo tutto questo preambolo adesso iniziamo la puntata che sarà una puntata particolarmente cattiva, faremo delle domande cattivissime ai nostri giocatori che fin da adesso possono anche alzarsi e andarsene perché è lecito. Ma io prima di introdurre i nostri ospiti lascio il microfono volentieri ad Emanuele Grilli che ci darà la sua opinione, il suo riassunto, quello che lui ha visto e quello che lui pensa di questa sconfitta a Gavorrano. Beh, diciamo che è una sconfitta che in questo momento non ci voleva, soprattutto perché è ottenuta in campo di una diretta concorrente per il primo posto. Diciamo che è stata una sconfitta venuta fuori da un episodio che ci ha sfavorito, era una partita complicata e molto tattica e si è visto dato che nessuna delle due squadre ha avuto grandissime occasioni per tutta la durata della partita. Purtroppo l'episodio che ha deciso la partita è avvenuto a nostro sfavore, però non è una sconfitta che ci deve far demoralizzare, anzi. I risultati della giornata che si è da poco conclusa sono stati i seguenti. Sansepolcro, Scandicci 0-1, Giolli, Montemurlo, Città di Castello 2-0, Ponsacco, Foligno 1-0, Gualdo, Casa Castalda, Ghivizzano 1-2, Gavorrano, Gubbio come detto 1-0, Voluntas, Poleto, Massese 0-4, Pianese, Pogibonzi 0-0, Montecatini, San Giovannese 2-1, Colligiana, Viareggio 0-2. La classifica, Gavorrano 40, Montecatini 38, Giolli, Montemurlo, Ghivizzano 35, Gubbio 34, Foligno 32, Ponsacco 31, Colligiana 30, Pogibonzi 29, a 28 punti, Viareggio e San Giovannese, a 25 punti, Pianese-Città di Castello. La coppia Massese-Scandicci a 19, la coppia Sansepolcro-Gualdo-Casa Castalda a 18, Voluntas-Poleto 9 punti. E andiamo poi al prossimo turno. Domenica prossima si giocheranno le seguenti partite. Foligno-Coligiana, San Giovannese-Cavorrano, Scandicci-Gualdo-Casa Castalda, Viareggio-Giolli-Montemurlo, Ghivizzano-Pianese, Gubbio-Ponzacco, Pogibonzi-Montecatini, Massese-Sansepolcro, Città di Castello-Voluntas-Poleto. Abbiamo finito anche tutto questo, che bisognava farlo per convenzione internazionale. Cominciamo con Alex Marini. Applauso per l'Alex Marini. Difensore inossidabile, anche un bel ragazzo, hai successo sia fuori dal campo, parliamo però di che cosa succede in campo. Domenica a Gavorrano hai forse giocato una delle tue più belle partite, il Rosso-Blu. Non è servito per evitare la sconfitta, però insomma, dici qualcosa. Quello che era importante fare domenica, come ha detto Pocanzi, era sicuramente cercare di tornare a casa con un risultato positivo. Era uno scontro diretto, ci tenevamo tutti, noi in primis, i tifosi poi, ecco, quello che dovevamo cercare di fare è di tornare a casa con un risultato quantomeno positivo per dare continuità ai risultati che sono stati fatti fino adesso. Purtroppo non è andata così, bisogna accettare il verdetto del campo per quanto, come detto, può essere sia meritevole o meno, però bisogna accettare quello che abbiamo fatto, rimboccarci le maniche ancora di più e guardare avanti con grande positività, far tesoro sicuramente degli errori che sono stati fatti, perché se si perde una partita degli errori ci sono, però al tempo stesso consapevoli delle nostre potenzialità, del nostro grande gruppo e della forza che possiamo esprimere di domenica in domenica. Bisogna sicuramente far tesoro di quello che è stato questa domenica, ma guardare avanti con grande positività e pensare subito a voltare pagina e pensare al Ponsacco di domenica prossima. Parli come un libro stampato, sei riuscito a non rispondere pur dicendo tante cose, questo ti fa onore e l'allenatore sarà soddisfattissimo. Jacopo Sciamanna, quante urla oggi ha fatto Magi nello spogliatoio? Ma no, sinceramente c'è stato un colloquio tranquillo tra persone... Ti sta crescendo il naso. No, no, tra persone mature abbiamo parlato degli errori che sono stati commessi e che dire, giustamente ognuno si è assunto le sue colpe, ma come ha detto Alex abbiamo già voltato pagina e da oggi stiamo pensando al Ponsacco e noi non molliamo sicuramente di un centimetro e siamo più carichi che mai perché il gruppo c'è, la voglia c'è e sono sicuro che a partire da domenica volteremo pagina. Il Gubbio a Gavorrano non ha fatto un tiro in porta. Lorenzo Crocetti. Colpa è tutta la tua o quasi tutta la tua. Mi prendo una parte delle colpe, essendo uno dei giocatori del reparto offensivo è stata una partita un po' priva di emozioni da ambo le parti anche se loro hanno avuto un'occasione al primo tempo abbastanza famorosa poi insomma per il resto mi è sembrata una partita classica dello 0-0 poi l'episodio purtroppo è girato a nostro sfavore ed è finita una 0-0 però insomma penso che non bisogna né far drammi né quando dopo queste due partite vittoriose bisognava essere troppo contenti insomma il cammino è ancora lungo quindi avanti tutta. Il cammino è ancora lungo noi abbiamo preparato una tabella che riguarda le prossime otto partite che potrebbero essere quelle nelle quali il Gubbio si gioca la vittoria finale del campionato ma siccome dalla regia mi stanno facendo dei gestacci e delle urla sembra di assistere a Jurassic Park ci risentiamo tra poco.